Sono Roberto Picchierai, sono un defondatore TV Project, un'azienda di software che da circa 20 anni sviluppa un prodotto Closure Management. Nella nostra presentazione abbiamo fatto vedere come si fa a calcolare il carico delle risorse e quali sono gli aspetti che bisogna tenere in considerazione. In particolare abbiamo fatto vedere che servono degli strumenti integrati fra Agenda, Gantt e così via per avere una situazione sotto controllo. Naturalmente il valutare il carico effettivo delle risorse ha un grosso, dare grossi benefici perché consente alle nostre risorse di lavorare con dei carichi di lavoro sostenibili e quindi di consegnare progetti in tempo e far lavorare tutti in maniera più serena per così dire. Chiaramente per far questo occorre avere un buon prodotto di Project Management. Naturalmente il nostro è uno dei migliori per cui vi consiglio di dare un'occhiata a quello che pubblichiamo sul nostro sul nostro sito e di seguire i nostri social.